Quando non bruciano cose, cercano di marchiare la gente! Ehi! Mi concedi un ballo? Come dire di no? Stai rimandando l'inevitabile! Grazie! Devo scappare, ma grazie per l'aiuto! Certo! Ma la prossima volta ti offro una pizza! Grazie! Grazie! Grazie a tutti. 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 Ho sperato tutto agli spiri. Ve lo dico, i pompieri stanno arrivando. Nessuno può fermare la profezia! No! 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 Eh! Chi ha visto il mio camion? La tua uscura sarà scallata! Zubiti della pianta! Ah sì? Prova a prendermi! Fa male, idolo degli stolti! Non riesco! Non riesco! Se avessi sigillato il camion un attimo dopo... ...d'acqua! Spider-Man, qui! La squadra rossa sta rallentando troppo, ci serve un altro cambio. Abbiamo piazzato gli esplosivi in tutte le zone, eccetto l'ultima. I demolitori sono lì. Sono in quattro. Li troverò. Tenete le radio accese e che nessuno tocchi quel detonatore. L'ispezione con lo Spider-Bot sarà più rapida. È ora di rendere fiero il tuo Spider-Batino. Ok, io trovo lì, sull'Arc, le tira fuori. Ehi, c'è nessuno! Aiuto! Ma è... un robot! Ehi, sono Spider-Man. Ho comunicato la tua posizione ai soccorsi. Saranno qui a momenti. Andrà tutto bene. Spider-Man! Grazie. Clark, hai ricevuto le coordinate che ti ho mandato. I nostri stanno entrando. Grazie. È arrivato Spider. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Perciò... Ma... potrei provare l'impulso esplosivo. Ehi! Sono bloccato! Aiuto! Resisti! Ora ti tiro fuori! Grazie! Ti salverai! I soccorsi sanno che sei qui e arriveranno presto. Andrà tutto per il meglio. Grazie! Grazie! Ehi, Clark. Stai per ricevere delle nuove coordinate. Ricevute. Partiremo quando avremo tirato fuori i robleschi. Forza. Respira. Respira. Forse... si può passare. Forse... si può passare. Ha... Quasi! Grazie a tutti. 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 Devo salire. È il momento di mettere alla prova l'ultimo potenziamento. Se l'assicurazione... Grazie a tutti. 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 Servirà... Servirà a tutti. Abbiamo... gli esplosive... Un attimo... la fiamma... dovresti sapere... e tutti... ne andiamo come siamo arrivare... soffrendo... soffrendo... così... 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 nessuno... nessun altro... nessun altro... ehi... 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 il fuoco... il fuoco... vi attende... ehi... chi siete voi? gli unici degni di sopravvivere a quello che verrà! finiamolo... finiamolo prima che arrivi la polizia! Sono sicuro che prima ancora crollerà l'edificio! Non hai speranza, idolo del pistone! Venire qui è stata una pazzia! la fiamma... brucia in eterno! Grazie... e tu saresti... E tu saresti... Eccoti qui! Ehi! Non hai mai voluto che fumassi? Yuri... I criminali mi chiamano Raid... perché sono come uno spettro per loro! Ho approvato... Dov'eri finita? Non c'è tempo! È loro! Hanno fatto una scelta! Dovrò battere il mio record! Visto? Non era impossibile! Yuri è affilata via! Credevo che avesse bisogno di tempo dopo la storia di Ammerald... ma tornare con un costume... e un nome come... Raid! Devo tenerla d'occhio! E tenere l'altro occhio fisso su questi fanatici! Mi servono più occhi! Non era possibile... Eccolo! Uncuchissimo! Uncuchissimo! Grazie a tutti